Allora il Movimento 5 Stelle, dicevamo, c'è Gianluca Vacca con il nostro Luigi Galluzzo. Buon pomeriggio Luca Rigoni, buon pomeriggio a Gianluca Vacca, deputato cittadino del Movimento 5 Stelle. Siamo in piena campagna elettorale, i toni sono altissimi, anche troppo alti secondo alcuni, no? Non se le mandano a dire i leader, c'è un eccesso verbale almeno? Un eccesso innanzitutto, buongiorno, buonasera anzi alle telespettrici e telespettatori. Ma un eccesso verbale, pensiamo che ci sono tanti problemi, quello sì. Il problema è che l'Italia è un paese sull'orlo di un barato, noi lo diciamo da tempo. È un paese che ha tantissimi problemi e questa classe politica non riesce a risolvere i problemi dei cittadini. Quello è sostanzialmente la questione. Io glielo chiedo perché anche Santoro, insomma, in queste ore ha detto, scendo in piazza anch'io se Grillo non la smette. In generoso Santoro o Grillo, anche perché fa campagna elettorale, i toni li sta esasperando. Poi non è roba da poco, perché le parole sono pietre, si diceva una volta. Ma sfrancamente mi è sembrato un po' scomposta la reazione di Santoro, anche perché noi, come facciamo sempre, noi denunciamo le notizie false e le notizie che non sono corrette. Abbiamo detto che una notizia che era stata data da Santoro non era corretta, comunque era stata data in maniera errata. Quindi questa reazione di Santoro mi è sembrata molto scomposta. Il problema è sempre uno, il problema è che non è che Grillo alza i toni. I toni sono alti tra i cittadini. Noi giriamo le piazze da quando siamo entrati in Parlamento, le giriamo tutti i fine settimana, le domenze, siamo in mezzo ai cittadini. Non adesso in campagna elettorale, lo facciamo da sempre. e vediamo che i cittadini sono esasperati. Anzi, forse, le dirò la verità, Grillo è utilizzatore di troppo soft per quanto il clima di tensione. Come diciamo noi spesso, il Movimento 5 Stelle è una sorta di cuscinetto. Di cuscinetto, quindi sbaglia chi vi accusa di essere fascisti. No. L'accusa adesso viene ripetuta, insomma, ripeto, la campagna elettorale esaspera toni verbali, si spera solo quelli in generale, però è un'accusa che viene ripetuta adesso nei confronti vostri e di Grillo in particolare. Ci hanno accusato di essere fascisti, comunisti, di estrema sinistra, di estrema destra, ci hanno accusato di tutto. Noi quando diciamo che siamo oltre e perché noi queste appartenenze ideologiche non ci interessano, noi siamo un movimento trasversale, noi siamo un movimento che decide tutto in assemblee, in agorà con i cittadini. Lo facciamo in Parlamento come lo facciamo nelle piazze, quindi parliamo di cose serie. Sicuramente avete una certa idea d'Europa, che è molto vostra, che tra l'altro è andata mutando. Ho sentito l'ultimo Grillo dire io voglio starci dentro il Parlamento europeo per cercare di cambiarlo, poi se non ci riusciamo è allora forse ipotizzeremo altro. Tra l'altro anche Berlusconi dice qualcosa di simile, dice che i parametri vanno rivisti, altrimenti non ha senso questa Europa. Ma che lo dica francamente Berlusconi, una persona che in vent'anni di governo, più o meno, comunque vent'anni che è in politica, ha permesso a quest'Europa di diventare quello che è, francamente la credibilità è nulla. Ma la vostra idea d'Europa qual è? A volte non si capisce bene, non solo la vostra, voglio dire, in tanti cambiano, assestano l'idea che hanno dell'Europa che vorrebbero. La nostra idea d'Europa è un'Europa dei popoli, un'Europa dei diritti, noi non siamo anti-europeisi, assolutamente, noi lo diciamo sempre, noi siamo, io personalmente, ma tutto il movimento, è per un'Europa ma dei popoli. Quell'Europa che invece hanno creato, è stata creata, è lontanissima dall'Europa che invece dopo la seconda guerra mondiale si voleva creare per uscire dalla dopoguerra, per creare le condizioni affinché non si tornassero in situazioni di contrasto come appunto quella che poi portò alla seconda guerra, la prima e poi alla seconda guerra mondiale. È un'Europa completamente diversa, l'Europa delle banche, l'Europa finanziaria, tutti gli strumenti economici... Non è un slogan un po' questo, perché le chiedo, ad esempio, l'idea del referendum resta in piedi o no? Assolutamente, l'idea del referendum, che ovviamente non è un referendum abrogativo perché non potrebbe esserci, ma un referendum consultivo, come è stato fatto altre volte nella storia d'Italia, è l'idea di consultare ovviamente i cittadini. Non è possibile che una decisione come quella dell'euro sia stata presa senza consultare i cittadini, non è possibile che i cittadini non siano stati informati sul fiscal compact, sul MES, su tutto quello che è stato approvato e che affamerà l'Italia, perché ricordiamoci che noi, con il rigore fiscale che ci è stato imposto dall'Europa, con il MES, quindi con il piano di rientro dal debito, secondo il quale dovremmo iniziare dall'anno prossimo a restituire 50 miliardi di euro al massimo, 50 miliardi di euro l'anno all'Europa, ecco, queste decisioni sono state prese senza consultare i cittadini, non è possibile che questo sia avvenuto senza che siano stati coinvolti, neanche informati i cittadini. Noi siamo all'esatto opposto, noi dobbiamo chiedere ai cittadini che Europa vogliono. I cittadini vogliono un'Europa di dire... Cosa serve un referendum consultivo su argomenti così? Però parliamo di politica italiana, altrettanto importante, il Senato, insomma questa riforma del Senato, il Ministro Boschi dice, beh, tempi certi, voi restate dell'idea che sarebbe meglio il proporzionale? Allora, la nostra... Prescindere. Facciamo una premessa di tutto quello delle riforme costituzionali che Renzi ha promesso 71 giorni fa, quando ha chiesto la fiducia al Parlamento non è stato fatto praticamente nulla, non lo diciamo noi, lo dicono i quotidiani che sono filo governativo o comunque vicino ai governi, per tradizione... Ha avuto tanti problemi Renzi, insomma, diamogli... Ma un Presidente del Consiglio che vuole governare un Paese, risolvere i problemi del Paese deve conoscere quali sono i problemi, non può governare senza conoscere quali sono gli intralci, è tutta, quello che noi diciamo noi, è tutta una campagna mediatica che si sta facendo soltanto per arrivare alle elezioni e non avere una debacle alle prossime elezioni europee, perché di quello che ha promesso Renzi non è arrivato in porto ancora nulla, avremmo dovuto fare già tre riforme, non è stato fatto niente. Che risultati ha auspicato, cioè qual è il risultato che vi farà dire andiamo al voto per le elezioni politiche? Noi vogliamo vincere, siamo certi di vincere queste elezioni europee. Questo è un auspicio legittimo, ma il 27% sarà una vittoria o il 30% o il 25%? Il 27% sarà una vittoria se sarà un punto percentuale più del secondo partito, il 30% sarà una vittoria se sarà un punto percentuale più. Ricordiamoci una cosa fondamentale però che deve essere chiara ai cittadini, perché molto spesso non si sottolinea questa cosa. Noi stiamo in Abruzzo, stiamo facendo anche la campagna elettorale per le regionali, perché abbiamo le elezioni regionali e molti comuni importanti dell'Abruzzo. Le nostre campagne elettorali costano un milionesimo di quello che costano le campagne elettorali dei partiti, forse anche di più. Noi facciamo le campagne elettorali con poche migliaia di euro. Questo è importante perché il nostro risultato è un risultato che deve essere anche ponderato in base a questo. Questo vuol dire che il nostro messaggio che arriva a prescindere dai faccioni… Si può fare politica anche con pochi soldi. I soldi nella politica sono il problema principale che noi stiamo combattendo e dei risultati li abbiamo già ottenuti. Il nostro tempo è tiranno, tirannissimo, ho i fatti di sabato, lo stadio di Roma, avete presentato, lei ha presentato un'interrogazione? Ho presentato un'interrogazione al ministro Affano perché è apparso francamente indecente che lo Stato si prostrasse in quel modo durante una manifestazione dove tutti gli occhi del mondo erano puntati sull'Italia. C'è stata o no la trattativa secondo voi? Da quello che abbiamo visto la trattativa c'è stata. Tutte le autorità dicono no. Ma allora per quale motivo il capo ultrà è andato ad annuire e a dire si può giocare? Per quale motivo la partita è stata sospesa per un'ora e dopo è iniziata dopo che il capo ultrà ha dato l'ok. Evidentemente qualcosa è successo e soprattutto noi vogliamo sapere chi ha autorizzato il capitano del Napoli ad andare a parlare con il capo ultrà. Se bisognava comunicare qualcosa ai tifosi c'era lo speakeraggio dello stadio, si poteva dirlo tranquillamente senza andare a parlare con il capo ultrà. Secondo lei Renzi e Grasso dovevano andarsene o hanno fatto bene a rimanere lì perché comunque bisognava far sentire la presenza dello Stato. Credo che sia indifferente francamente. Lo Stato e le istituzioni dello Stato italiano sono ormai defunte. Non abbiamo più il senso delle istituzioni. Noi non c'è più veramente un... Quando si fischia l'inno italiano in quel modo è un sintomo quello perché è un sintomo che deve essere recepito. Non si può fare finta di nulla. Avete spesso contestato le istituzioni di cura, è importante. No, noi contestiamo chi occupa le istituzioni in maniera abusiva o in maniera indegna. È cosa ben diversa. Noi vogliamo delle istituzioni che rappresentino i cittadini. DASPO per un anno o DASPO a vita sono le soluzioni? Allora, abbiamo avuto... Senza DASPO succedeva quello che succedeva. So che l'ha frequentato gli Stati, conosce l'argomento. Questo glielo chiedo. Ma ho frequentato gli Stati, sì, ho vado a vedere qualche volta le partite, mi piace il calcio, non sono ovviamente un Ultras, però conosco un po' quel mondo. E ovviamente non è bisogno criminalizzare gli Ultras perché sono molti Ultras, o comunque molti tifosi che vanno allo stadio per tifare la propria squadra e vanno soltanto per quel motivo. DASPO senza DASPO succedeva quello che succedeva. Con il DASPO sono continuati i problemi. Quindi non è quello il problema, bisogna affrontare la radice. E poi ricordiamoci una cosa, i problemi delle federazioni sportive sono dei problemi che vanno oltre i tifosi, perché le federazioni sportive hanno tantissime problematiche che vanno affrontate e infatti noi in Commissione proprio oggi abbiamo chiesto l'audizione sia del Presidente del CONI, ma della COC che delle federazioni sportive. Notizia importante, Gianluca Vacca. Grazie, buon lavoro. Grazie per tornare a Luca Rigoni.